La renaissance europea è una cosa estremamente ambitiosa per realizzare. In Italia, in particolare, siamo riusciti nella cultura, ma siamo riusciti nella cultura, ma siamo riusciti nella cultura, ma siamo riusciti nella cultura. Abbiamo bisogno, probabilmente, più knowledge e più tecnologie e la capacità di integrare tutti questi aspetti. E' la nuova renaissance.